Lasciateci consultare la saggezza infinita dell'Elix Fossile! Ooooooh... Sta... zitto! Ragazzi, non vedo l'ora di catturare tutti i nuovi Pokémon di questa regione! Wuh! Sì, un nuovo strumento! Chissà che cosa c'è dentro! Ehi, non puoi farlo! Per prima cosa devi ricevere la M e il taglio, poi la devi insegnarti un Pokémon, il Pokémon deve tagliare il Cespuglio per te, e poi potrai prendere quello strumento! Oppure posso spostare il Cespuglio di fianco e... No, no, non puoi farlo! Perché? Perché... Tu... tu non puoi, ok? Va bene! Questi stupidi ragazzi non sanno niente su come tagliare i Cespugli! Ho sentito che stai cercando la M e il taglio! Io ce l'ho! Ma dovrai combattere contro di meeeeee! Perché stai camminando in quel modo? Forse perché ho più possibilità di combattere contro qualcuno? Ehm... Beh, credo di aver bisogno della M e il taglio, quindi combattiamo? Fico! Camminami davanti! Ok! Camminami davanti! Camminami davanti! Sta fermo! Camminami davanti! Fermati! Coraggio! Camminami davanti! Beh, se tu smettessi di camminare in quel modo... Camminami davanti! Andiamo! Maledetti tossici! Camminami davanti! Cammin... Cammina! Ah! Ti ho preso puttanella! Ho davvero una bella sciarpa! Mi tiene caldo in inverno! Combattiamo! Aspetta, aspetta, aspetta! Perché hai detto quella cosa? Detta cosa? Hai detto... Niente... Combattiamo e basta, ok? Mi piacciono le bici! Soprattutto quando prendo le buche! Combattiamo! Dio, odio questo posto! Vai! Belieber Perseo! Belieber Perseo? Stai zitto! L'ho avuto con uno scambio e adesso non posso cambiare il nome! Comunque, biber non è così male! Ha quella tartaruga! Sì, va bene! D'accordo Charizard, scelgo te! Imparando dei miei errori precedenti mi sono assicurato che il mio Pokemon abbia 4 attacchi. Non avrei nessuna possibilità di battervi, puttanella! Oh, questa sembra buona! Belieber Perseo, usa Colpacoda! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì E niente a quella faccia, è con Spaccone! Spaccone? E' una mossa? E' un cavallo di battaglia questa canzone! Merda... Ehm... Charizard usa lanciafiamme! Cosa? Che vuol dire che ti sei colpito da solo perché sei confuso? Non ha alcun senso! Ehi, puoi smettere di suonare questa dannata canzone quando combattiamo? No! Okidoki, colpiamolo con l'attacco maledizione! Che diavolo è un... D'accordo Charizard, usa lanciafiamme di nuovo! Ma stavolta non colpirti da solo come un idiota! Finalmente ho la possibilità di battere uno dei suoi Pokémon! Beliver Perseo... Uuuuusa... Salutico! Roooo R déjà trallate D'accordo Charizard! Finiscilo coo... Graffio! ZEE Nooo! Ma il mio Pokémon aveva tanti attacchi! Ok, va bene! Ecco la tua stupida MN Taglio! Grazie mille! È proprio necessario? Scusa! Bene! Ora ho solo bisogno di insegnare Taglio ad uno dei miei Pokémon! No! No, 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 no! Ma che... AL DIAVOLO! Va bene, meglio che ci sia uno strumento buono qua dentro, altrimenti prenda a pugno lo stupido vecchio in faccia! Oh, è normale che nessuno ti ami e che tu sia completamente inutile! Taglia questo, Troia! Colpo alla testa! Oh no, non farmi del male! Io non ho ness... Io non ho nessun... Io non ho nessun amico! Però o... Sono cave меньза...